Un promontorio anticiclonico interessa il Mediterraneo occidentale, facendo fluire sull'Italia correnti nord-occidentali in quota sabato, da sud-ovest più umide invece domenica. Lunedì giungerà un fronte freddo atlantico. Per sabato prevediamo cielo tra poco nuvoloso e variabile sia per il passaggio di velature in quota che per la locale formazione di nuvolosità. Le temperature massime saliranno a 17-18 gradi in pianura attorno ai 16 invece sulla costa. Domenica avremo maggiore nuvolosità, quindi cielo genere nuvoloso in pianura, coperto sulla fascia prealpina, variabili invece sulla costa e sulle Alpi, tempo migliore in quota. Sulla fascia prealpina non escluso nel pomeriggio qualche debole pioggia sparsa. Sulla costa soffierà vento da sud moderato. In serata si faranno sentire i primi effetti dell'arrivo del fronte, con le prime piogge un po' più diffuse anche in pianura. Lunedì coperto, piogge da abbondanti e intense su pianura e costa, neve in montagna con quota neve in abbassamento fino a 500 metri sulle Alpi, fino a 700 sulle prealpi. Sulla costa soffierà al mattino scirocco moderato, dal pomeriggio ora anche sostenuta. Dall'osservatore metodologico dell'ARPA, Livio Stefanotto